Buon, 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 buon Ferragosto Per tutti quelli che come me non amano per niente questo giorno di Natale Consiglio Sì, vabbè, mi piace Natale, non è che mi devo sentire non a posto perché non mi piace Natale Tutti diranno che pole, la solita lagnosa a cui non gli piace Natale Che gli fa malinconia, che gli fa tristezza No, semplicemente non mi piace Natale Per cui consiglio la concentrazione massima E convincersi che oggi è Ferragosto Per cui da Simo e i suoi consigli Sappiate che sempre è solo una questione mentale Da da